Benvenuto nella sezione prestiti di Segugio.it. Sei nel posto giusto per trovare il finanziamento migliore per te. La sezione prestiti di Segugio.it è gestita da Credit Online Mediazione Creditizia SPA, appartenente allo stesso gruppo societario di Segugio.it e leader da oltre dieci anni con il sito prestiti online.it nella comparazione online di prodotti di credito al consumo. Ogni giorno decine di migliaia di persone utilizzano il nostro servizio per confrontare e richiedere i migliori prestiti sul mercato offerti da importanti istituti italiani ed esteri. In dieci anni, oltre 300.000 famiglie hanno ottenuto il loro finanziamento tramite il nostro servizio. Utilizzare Segugio.it è semplice, veloce e conveniente. Compila il modulo di ricerca per il tipo di finanziamento che ti interessa, ad esempio un prestito personale, ed avvia il confronto per vedere subito i preventivi. Segugio.it troverà per te le migliori offerte disponibili, con una ricerca personalizzata sulla base delle tue esigenze. I tassi, le rate, il TAEG e tutte le spese sono sempre indicati in modo chiaro e trasparente e puoi ordinare le offerte secondo diversi parametri. Puoi anche modificare i dati della tua ricerca, per ripeterla quante volte vuoi e vedere altre offerte. Con Segugio.it puoi così confrontare i prestiti in modo semplice ed avere subito un'idea chiara delle proposte migliori per te. Per approfondire, consulta anche la scheda prodotto di ogni offerta, con le principali caratteristiche del finanziamento, il dettaglio di tutte le condizioni, il calcolo del piano di rimborso e l'informativa europea di trasparenza. Puoi anche valutare la combinazione migliore di importo e durata per il tuo prestito. Ma i vantaggi di Segugio.it non finiscono qui. Una volta scelta l'offerta migliore per te, compila il semplice modulo online per richiedere un parere di fattibilità sul prestito da parte dell'Istituto Erogante. Potrai così ottenere le condizioni riservate alla nostra clientela, gratuitamente e senza alcun obbligo di sottoscrizione. Inoltre, tramite il nostro numero verde, potrai contare sulla consulenza telefonica di un nostro esperto professionista, in grado di fornirti tutte le informazioni e i consigli che desideri, senza alcun costo per te. Una volta ottenuta l'approvazione, sarai tu a decidere se finalizzare l'apertura del prestito con l'Istituto Prescelto, beneficiando dell'attenzione riservata alla nostra clientela e ottenendo, in molti casi, sconti e condizioni di favore. Segugio.it è un'iniziativa facente capo a Gruppo Mutui Online SPA, società quotata alla Borsa Italiana dal 2007, leader in Italia nel campo della comparazione multimarca e nell'intermediazione di prodotti di credito e assicurativi e principale riferimento di settore anche per i mezzi di informazione, una garanzia di indipendenza, serietà e professionalità. Per trovare il prestito più conveniente e adatto alle tue esigenze, Segugio.it ti offre il servizio ideale per cercare, scegliere ed ottenere la soluzione migliore, basato su una decennale esperienza nel settore del credito alle famiglie. Segugio.it, il miglior amico del risparmio. Grazie a tutti.